Oggi in Consiglio regionale abbiamo discusso una mia interrogazione a risposta immediata relativa alla situazione del ponte romano tra Cagli e Cantiano. Dopo un anno, 5 mesi ed 8 giorni dal terribile allusione del 15 settembre 2022, purtroppo questa importante opera architettonica versa ancora nello stesso Stato, tra rimpalli di responsabilità e ritardi burocratici. Da Roma ci hanno garantito che i soldi ci sono, però in tutto è fermo in una fase pre-progettuale, quindi per il bene della stabilità di questo manufatto e per poterlo riportare transitabile è bene che si intervenga subito, non possiamo più aspettare.